Il segreto per vincere è non perdere energie. Durante uno sforzo il nostro organismo brucia in fretta le sue riserve energetiche. Fatica e stanchezza incidono così sulla prestazione e sul risultato finale. E tu sei in gara per vincere, no? G1000 Record ti aiuta a vincere anche la fatica. È un integratore energetico in tavolette da masticare al gusto di limone programmato per tutta la durata dello sforzo. G1000 Record integra le tue riserve d'energia secondo un ritmo graduale che aumenta le capacità muscolari. Con G1000 Record vinci vincendo la fatica. È un prodotto PRL.